Siamo con il sindaco Simonelli di Isabiano, questo carnevale come sarà? È un carnevale, noi ci auguriamo che sarà bellissimo, perché sono stati tutti quanti gli altri. Stamattina, ieri abbiamo cominciato con Nostalgia 90, oggi ci sono i carri fermi qui su Corsi Italia, poi ci saranno le serate di Onale, poi ci sarà Michele Zarrillo venerdì sera, venerdì prossimo, poi ci saranno le sfilate l'11 e il 13. È un carnevale da vivere? È un carnevale da vivere come tutti quanti gli altri, gli altri anni, molto partecipato e speriamo che tutto vada a peso. C'è molta partecipazione. Quanti carri? Sono 11 carri e quindi stasera c'è uno spettacolo importante, carnevale sotto le stelle, carnevale sotto le stelle, quindi è tutto da vivere. Anche ieri sera? Ieri sera c'è stato un bagno di folla pazzesco, un bagno di folla pazzesco e tutto è andato bene, speriamo che continuiamo così, di continuare così. Voi siete contento? Ma io sono contento quando vedo la gente felice, amministrare un paese non è facile, noi ci proviamo, a volte riusciamo in cose buone, altre volte i risultati non sono all'altezza delle aspettative, ma questo credo che ti guardi tutti, ti guardi tutti i paesi, l'importante è l'impegno, l'impegno massimo che noi mettiamo sempre.